Allora, abbiamo questo libro che ho appena finito di leggere. E' Hans Ruesch, Paese dalle ombre lunghe, e l'ho comprato perché ho visto la recensione. Questo autore io non lo conoscevo, non l'ho mai sentito nominare, pensavo fosse straniero. In effetti non è nato in Italia, ma ha vissuto in Italia, a Napoli per molto tempo, poi ha studiato in Svizzera, conosce varie lingue, è stato per esempio anche pilota automobilistico, ha corso per la Ferrari, per la Maserati, e poi si è diventato un famoso ambientalista e difensore anche degli animali. Allora, questo libro parla della vita di una famiglia di eschimesi del nord della Groenlandia. Ne parla in un modo veramente avvolgente. Ti sembra di essere dentro questa storia. E la vita di questi personaggi in Groenlandia è molto molto semplice. È una vita, come dire, di sopravvivenza tra la caccia, all'orso, alle foche per nutrirsi, la neve, il buio che per sei mesi copre tutto e che loro passano praticamente sempre dentro, chiusi nei loro iglu, e il tempo, che è il tempo del nord, e la, come dire, la lotta, diciamo, il contrasto tra la loro vita estremamente semplice e il sud, dove per sud intendiamo quelli che vogliono portare la meccanizzazione, quelli che vogliono portare il commercio secondo le nostre regole, che vogliono portare la religione, e il contrasto con questo sud che avanza, diciamo. La storia è abbastanza semplice, parla di matrimoni, parla di morti, parla di uccisioni, parla di sopravvivenza, ancora una volta, di come si vive da quelle parti. Ed è veramente stupefacente il fatto che questa persona non è mai stata da quelle parti. Tant'è che lui deve, in qualche modo, giustificare questo suo romanzo dicendo, in prefazione scritta da lui, non lo trovo più, scusatemi, ma dove dice, guardate che io queste cose qua le ho dette perché sono vere, sono notizie divulgate da uomini del caso di finance, eccetera, eccetera, e quindi che sono delle indiscusse autorità sull'artico alle sue popolazioni. Quindi lui racconta una storia, e la racconta in modo mirabile, di popolazioni che non conosce, sulla base di, appunto, informazioni che ha avuto. Beh, è proprio un bel libretto questo qua. Vi prende, insomma, sono 250 pagine, peraltro abbastanza piccole, diciamo, una dimensione, un tascabile. Io lo consiglio vivamente, quindi eccolo qua. Hans Ruesch, Paese dalle ombre lunghe, traduzione di Daniele Petruccioli e dell'Einaudi, e costa 16 euro, quindi anche un prezzo estremamente basso. Eccolo qua. Buona lettura. は Ampettati 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 Ampettati